Credo che sia importante dapprima effettuare tutto un momento di ascolto, di analisi, di raccolta dati dei vari comparti turistico e del commercio, quindi un tavolo tecnico con le associazioni di categorie in riferimento al turismo alle 16.30 e con il commercio alle 17.30. A questa fase seguirà poi una fase più aperta con gli operatori per incamerare quei dati che ci servono per fare delle analisi precise, quindi in questo momento ascoltare gli operatori, ascoltare le associazioni di categoria, capirne le problematiche e da lì poi attuare tutta una fase di analisi a fine cercare di apportare le soluzioni per migliorare la nostra città. Questa stagione ormai è un treno in corsa, le modifiche immagino si fanno un po' fatica a fare, quindi sarà la prossima stagione estiva che vedremo la delineazione un po' dell'impronta sua. Ma in realtà devo dire che io oggi prendo mano ad una situazione lasciata da due assessori, Carla Cecchitelli al commercio e Stefano Marchegiani, che hanno fatto sicuramente un ottimo lavoro, quindi prendo le redine e darò continuità ad un lavoro che è stato svolto in modo preciso e puntuale. Sicuramente da qui cercheremo di capire insieme a loro, con il quale anche magari mi interfaccerò, e insieme alle associazioni che vivono questi comparti che giornalmente cambiano e vivono diverse difficoltà. Quali sono le migliorie da fare per il futuro?